Io farei un po' il punto sui nostri lavori, abbiamo preso un po' più di tempo rispetto al previsto, ci pare di aver fatto bene, c'è ancora la sala pienissima, volevamo sentire più persone possibili. Noi proponeremo di fare ultimi 5 interventi, questo vuol dire che ci sono una trentina di persone che hanno chiesto che non interverrebbero e puoi dare la parola a Gianni per le conclusioni, per un saluto.